Ciao, mi chiamo Giovanni da Benedetto e sono un fotografo che connubia la pittura con la fotografia fine art. Nel corso degli ultimi dieci anni ho partecipato a diverse mostre personali e collettive sia in Italia che all'estero. Infatti prima di entrare nella Fine Art Photo Academy ho appena finito una residenza d'artista di quattro mesi a Berlino. Il problema principale che avevo è che mi ho reso conto che non avevo una conoscenza approfondita di come è strutturato il settore della fotografia fine art e questo non mi permetteva di fare i step successivi per progredire nella mia carriera. Quindi durante il percorso di studi dentro l'accademia ho capito delle differenze sostanziali sia teoriche che tecniche, come per esempio la differenza tra un art consultant ad un agente o il vero motivo per il quale partecipare a determinati contest e come sceglierli. Inoltre una cosa diciamo che molto positiva che ho trovato durante il percorso di studi è che ho visto un riscontro di quello che stavo apprendendo dentro l'accademia al di fuori dell'accademia, confrontandomi per esempio su alcuni aspetti del mio lavoro con altri professionisti in dei portfolio review. Mi hanno detto forse è meglio che ti concentri nel tuo project statement dicendo certe cose piuttosto che altre, esattamente poi quello che stavo imparando, che poi ho già imparato in accademia ma per i motivi non avevo ancora applicato. Quindi diciamo raddrizzando il tiro e mettendo a posto certe cose sono riuscito poi a fare determinati step in avanti, come per esempio sono entrato in contatto con l'art director di una fiera molto importante a Miami Beach che si chiama Pulse Art Fair che si svolge durante la Miami Art Basel. Oppure sono riuscito a far impubblicare sul sito di Dodo Magazine che è un magazine molto grosso per la fotografia fine art e oppure ho già delle pubblicazioni insomma programmate durante l'anno e tutto questo mi ha permesso poi di conoscere altri professionisti con il quale collaborare e quindi progredire. Io consiglio vivamente la Final Photo Academy a chi vuole diciamo avere più consapevolezza sia di come appunto è strutturato il mercato della fotografia fine art sia su come muoversi e come approcciare i professionisti con il quale lavorare fondamentalmente. È tutto questo insomma per far progredire il nostro lavoro ma anche per progredire noi come artisti.